Marco, oltre ai quattro punti nelle ultime due gare, hai anche una bella sensazione, credo, di tenere la difesa a zero senza subire molto? No, sì, è fondamentale, anche perché ti dà quell'autostima in più e ti fa giocare con più sicurezza, soprattutto tutta la squadra, ma anche per noi difensori è una cosa importantissima. L'abbiamo cercata e abbiamo lavorato tanto durante la settimana, per ora ci è riuscita in due partite a tenere la porta inviolata. Dei difensori centrali che stanno giocando tutti bene, secondo me, ovviamente sono tutti di livello, ovviamente la prestazione, se è positiva, anche la tua prestazione personale diventa positiva. Diciamo che è un po' tutto il campionato che siamo stati un po' altallenanti di risultati, ne abbiamo parlato col Mist tra di noi e tutto, stiamo cercando di tenere un certo livello la continuità e anche durante la partita e tutto. Penso che è una gara fondamentale, forse anche una delle più importanti, perché facciamo gli stessi nostri punti, adesso mancano poche partite al termine, sicuro dobbiamo andare a cercare di portare a casa qualche punto. Sotto stanno facendo tutte bene, quindi non possiamo calare quello che stiamo facendo e dobbiamo pensare a noi stessi. Sì, volentieri, ti ripeto, sarebbe meglio la vittoria, però adesso in questo punto della stagione l'importante è portare a casa dei punti.